La gratitudine è davvero una parola di fuoco perché è un'emozione positiva che ci fa sentire apprezzati nella nostra vita. Si concentra sull'apprezzamento delle persone, delle cose e delle esperienze che ci circondano, anziché sul desiderio di ciò che non abbiamo o su ciò che potrebbe mancare nella nostra vita. La scienza ci dice che l'esercizio della gratitudine può avere molti benefici nella salute mentale e fisica, quale la riduzione dello stress e dell'ansia, maggior senso di felicità e di benessere, miglioramento nel sonno, maggiore empatia e generosità e maggiore resilienza e capacità di far fronte alle difficoltà. La gratitudine però va coltivata e per fare ciò possiamo fare alcuni esercizi. Uno, magari una lista di cose per cui siamo grati. Due, usare un diario della gratitudine. Tre, fare un esercizio di gratitudine prima di dormire. Quattro, esprimere la gratitudine alle persone importanti della nostra vita. Scegliamone una che funziona meglio per noi e cerchiamo di metterla in pratica ogni giorno e ne vedremo i risultati. E se ora noi cerchiamo di analizzare la gratitudine secondo le Sacre Scritture, scopriremo che è un elemento cruciale nella vita di Gesù. Delle tante cose di cui potremo parlare, nel capitolo 17 del Vangelo di Luca, Gesù guarisce dieci lebrosi e solo uno di loro torna indietro per ringraziarlo. Ma Gesù osservò. Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse indietro a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quindi il rendimento di grazie unito alla fede, secondo Gesù, non solo permette di guarire, ma salva. E voi dite mai grazie alle vostre mogli dopo che vi hanno preparato il pranzo o la cena? E voi mogli dite mai grazie ai vostri mariti che sono stati fuori tutto il giorno per sostentare la famiglia? E voi bambini o ragazzi dite mai grazie a papà e mamma? Questo può essere un buon esercizio per coltivare la gratitudine. Vi ricordo se vi è piaciuto il video di attivare la campanella, lasciare un mi piace e mettere i vostri commenti.